Grazie a tutti. Per aver scelto anche il nostro comune per questo evento così importante e quanto mai opportuno per la salute dei cittadini in sostanza. Saluto, consentitemi con grande affetto, il nostro ex direttore sanitario, il dottore Tomasello, oggi dirigente presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASPA di Catanzaro e amico soprattutto della nostra comunità. Saluto anche il dottore Tomaino, attuale direttore sanitario del presidio ospedaliero di Suveria Mannelli, anche egli amico della nostra comunità e attento ai molti problemi che la sanità pubblica sta vivendo purtroppo da un po' di tempo nel nostro territorio. La nostra è una comunità aperta, capace di grandi sacrifici e anche di grandi gratitudini e soprattutto vive un luogo fortemente svantaggiato rispetto ai centri più importanti della nostra regione. E' per questo che siamo particolarmente contenti per questa attenzione particolare che ci hanno voluto dare. Saluto e ringrazio la dottoressa Spinelli che è il responsabile del centro di prevenzione dell'ASPA di Catanzaro, la dottoressa Carigiuri, il dottore Furgioele, il dottore Galea, direttore dell'unità operativa dell'ideologia del presidio di La Mezzaterme. Saluto anche a nome del dottore Galea, che mi ha pregato di farlo perché è impegnato in altre attività istituzionali. Saluto e ringrazio la dottoressa Molinaro dell'unità operativa di oncologia del presidio di La Mezzaterme, che ringrazio per la sua attività a favore anche del nostro ospedale. Ma mentre l'unità operativa di prevenzione, questo consentitemelo, i relatori mi consentiranno questa digressione, ma è doverosa per un sindaco, che è stato anche medico fra l'altro. Mentre la vostra unità operativa si è attivata in maniera meritoria, direi, per svolgere questo fondamentale servizio oggi a Soveria e che ci rende particolarmente lieti, la stessa cosa non possiamo dire però per le altre funzioni del nostro ospedale, che meriterebbero uguale premura e che invece l'ASPE di Catanzaro non sta valutando con la dovuta attenzione e importanza. L'importanza è che le aree interne meriterebbero perché potenziali vettori di sviluppo dell'intera regione. A Soveria abbiamo un ospedale quasi completamente ristrutturato, con due sale operatori completamente ristrutturate e a norma, e ciò è stato fatto con i soldi dei contribuenti. Perché sottovalutare questa risorsa? Perché sottutilizzarla? Perché non metterla a disposizione dell'utenza di questa zona montana e disagiata? Poche cose occorrono ancora. Gli interlocutori non sono quelli che purtroppo dovrebbero ascoltare queste mie parole, ma c'è bisogno della determinazione e soprattutto della volontà di farle. Il tema di oggi, e finisco per dirlo con un noto motto, è prevenire meglio che curare. Tre sono gli screening gratuiti che lo Stato italiano mette a disposizione dei cittadini. Lo screening del tumore del collo retto, del collo, dell'utero, del seno. Bisogna dire che la prevenzione è sicuramente l'azione o l'attività che mira a ridurre la mortalità, la morbidità, o gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o una certa patologia, promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo. Un giorno forse, non sappiamo se sarà tanto lontano, vi chiedo scusa, basterà una pillola per tenere lontano il cancro, forse succederà, lo vedremo questo giorno, non si sa. Ma oggi, sicuramente oggi, è la prevenzione la migliore arma per vincere il cancro. Ed è alla nostra portata, alla nostra portata di ogni giorno. Basta non iniziare a fumare o smettere al più presto. Seguire un'alimentazione equilibrata e salutare, praticare sport e sottoporsi periodicamente ai controlli. Ai controlli che, fortunatamente, lo Stato si dà gratuitamente. Prevenire e vivere il cancro, nonostante rappresente ancora oggi una delle principali cause di morte e la sua diffusione sia costantemente in aumento, è in gran parte prevedibile. L'obiettivo, quindi nostro, è quello di sconfiggere i tumori attraverso la prevenzione. Ed è quello che l'unità operativa di prevenzione sta facendo stasera a Soveria Mannelli. La prevenzione si può dividere in prevenzione primaria, che è la forma classica e principale della prevenzione. Focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia. La maggior parte delle attività di promozione della salute verso la popolazione sono, ad esempio, misure di prevenzione primaria, come queste di questa serie, una misura di prevenzione primaria, in quanto mirano a ridurre i fattori di rischio da cui potrebbe derivare un aumento dell'incidenza della patologia. Ridurre i fattori di rischio, come il consumo di tabacco, l'errata alimentazione, la sedentarietà, l'eccessivo consumo di alcol, l'eccessiva esposizione ai raggi solari. E si attua con il coinvolgimento della popolazione, che fortunatamente stasera è costituita da giovanissime, ci sono anche delle signore, ma la maggior parte sono giovanissime, alle quali potrà essere molto utile quello che ascolteranno in seguito. Questo è il senso vero di questa giornata, per la quale, lo ripeto, siamo grati a tutta l'equipe del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro. Poi c'è la prevenzione secondaria, previene i tumori mediante la diagnosi precoce, con il fine di ridurre la mortalità, l'invasività degli interventi e migliorare la qualità della vita. Individuare i tumori in fase precoce dà infatti la possibilità sia di limitare i danni all'organismo, sia di modificare la prognosi, questo è importante, la prognosi della malattia. E poi c'è la prevenzione terziaria, quando arriviamo un po' tardi, che si fa carico delle problematiche che insorgono durante il percorso di vita di chi ha sviluppato un cancro, attraverso pratiche quali l'assistenza domiciliare, la riabilitazione fisica, psichica e il reinserimento sociale e occupazionale del malato oncologico. E concludo, concludo da medico così come mi ha definito la dottoressa Spinelli, con una parola d'ordine, una parola d'ordine di una nota associazione torinese per la lotta contro i tumori e dice aiutaci ad aiutarti, controllati e vi ringrazio. In realtà volevo però mettere in evidenza una cosa, il presidio ospedaliero di Soveria Mannelli rivesse una grande importanza anche relativamente alla prevenzione, perché per quello che riguarda lo screening mammografico abbiamo il servizio di radiologia che è diretto poi dal referente clinico dello screening mammografico che è qui presente il dottore Galea e che eroga le mammografie di screening alle donne aventi diritto in maniera gratuita e quindi rappresenta un importante momento di incontro con la popolazione. Esiste anche poi il laboratorio di patologia clinica che è il punto di riferimento dell'intera provincia di Catanzaro per quello che riguarda lo screening del colon retto. I saluti ora del direttore sanitario del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, il dottor Tomaino. Un saluto brevissimo a tutti voi che siete intervenuti, al sindaco per la bellissima ospitalità che ci ha riservati, permettetemi un saluto particolare e soprattutto un ringraziamento al dottore Claudio Tomasello che anche se non più in veste di direttore sanitario dell'ospedale di Soveria ma oggi presente in veste di dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione ha avuto a cuore questa iniziativa proprio nelle città di Soveria Mannelli. Stesso ringraziamento va ovviamente anche la dottoressa Annalisa Spinelli che è responsabile del centro screening oncologico e organizzatrice materiale di questo evento nonostante i pochi mezzi informatici e il lavoro mostruoso che ha fatto per organizzare e per mandare avanti tutte queste iniziative. Un ringraziamento a voi tutti che siete intervenuti e speriamo che questo sia l'inizio per continuare con altre iniziative che possono portare alla città di Soveria benessere ai cittadini, ai suoi cittadini. Grazie e arrivederci. Bene, io sono sicura del buon successo di questa iniziativa perché abbiamo un pubblico rappresentato da soggetti di età diversa, magari con interessi diversi che possono insieme riuscire a rendere sempre più fitta questa rete che noi stiamo cercando di creare a tutela della salute. Importanti sono anche le associazioni di volontariato che sappiamo possono giocare un ruolo determinante nel favorire il passaggio di un'informazione che non è solamente quella dei canali istituzionali cioè ovvio che se io sono medico mi interesso della salute e della popolazione nel momento in cui l'informazione viene data da un soggetto qualificato che comunque non lo ha come obiettivo istituzionale, come compito istituzionale può aggiungersi, come dire, fare quasi da risonanza alle informazioni, alle indicazioni in questo caso agli inviti che noi forniamo invece come operatori sanitari. Quindi ringrazio tutte le associazioni presenti il Comitato Proospedale del Reventino con il Presidente Antonello Maida l'Associazione Proloco di Soveria Mannelli con il Presidente Antonio Ferrante l'Associazione Telematica Liberi TV che oltre a realizzare un servizio su questa iniziativa farà una trasmissione integrale dell'intero convegno da trasmettere su una rete locale l'Associazione Culturale Fiore di Lino perché Soveria Mannelli si caratterizza comunque per essere molto fervida dal punto di vista culturale anche questa struttura è intitolata infatti a una persona che si è disinta Marotta per la sua grande cultura e il suo interesse l'Avis Comunale di Soveria Mannelli che ci ha dato una grandissima mano sul territorio non solo di Soveria Mannelli ma che in questo caso ha rappresentato veramente la differenza nello screening mammografico e vi dico perché noi abbiamo iniziato ad invitare tutta la popolazione di Soveria Mannelli le donne dei 50 e 69 anni ad effettuare le mammografie di screening gratuite nel vostro presidio ospedaliero, nel nostro presidio ospedaliero di Soveria Mannelli ma la risposta era stata, non dico deludente ma praticamente prossima allo zero e noi ci siamo allarmati, per questo siamo qui oggi abbiamo però pensato di far recapitare a mano direttamente alle persone interessate la lettera d'invito da parte dei volontari dell'Avis che svolgono questa azione come tutti i volontari in maniera assolutamente gratuita questo ha già fatto la differenza perché noi nelle prime due sedute di gennaio che sono quelle di lunedì e quella di oggi abbiamo registrato un'adesione all'invito di screening che è quella che noi ci auguravamo un'adesione che comunque rimane bassa perché è del 30% ma è che è quella minima che noi ci eravamo posti come obiettivo possiamo fare di più e riusciremo a farlo con il vostro aiuto ringraziamo poi il club alcolisti in trattamento con il responsabile Bruno Villella che ha sposato anche questa nostra causa ed è qui presente a questo convegno e poi anche il mondo della scuola che in questo caso giocavamo in casa perché il dirigente scolastico è il cugino della nostra Emilia Caligiuri e forse la genetica che conta anche nel cancro conta anche nelle azioni positive che sono di contrasto alla presenza del cancro per cui ringraziamo tutti gli studenti e vi invitiamo a fare tesoro delle informazioni che raccoglierete e a trasmetterle ai vostri cari quando ritornerete nelle vostre famiglie oggi abbiamo anche la possibilità di prenotare gli esami di screening nel fondo della sala c'è un'operatrice del centro screening per fornire informazioni e indicazioni sugli esami e in alcuni casi fornire anche la data degli esami dicevo che il presidio ospedaliero di Soveria Mannelli è il centro di riferimento perché vengono analizzati gli esami FOBT che servono per ricercare la presenza di sangue occulto nelle feci e quindi per la diagnosi precoce del tumore del colon retto ma anche di quelle lesioni che non sono ancora tumore e che se vengono identificate e asportate evitano proprio che si metta in moto il meccanismo polipo-tumore invito quindi a porgere i suoi saluti il dottore Giuseppe Ivan Potente che è direttore della patologia clinica del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli Grazie a tutti e grazie grazie per questo invito nel ringraziare Annalisa ringrazio tutti perché altrimenti rischiamo come dire di diventare ipertrofici rinominandoci ringrazio tutti coloro che hanno voluto questa manifestazione e in primis il sindaco e ringrazio tutti i colleghi che hanno ritenuto di partecipare ad un evento così importante noi siamo laboratori di riferimento dal 2008 dico noi impropriamente perché io questa cosa me la sono trovata e nel trovarmela non posso non ringraziare chi all'epoca ebbe la lungimiranza di inserire la patologia clinica di Soveria Mannelli e quindi l'ospedale in questo percorso la dottoressa Luciano che mi ha preceduto e che voi conoscete tutti quindi mi sembrava doveroso diciamo rinominarla e ridarle questo merito siamo laboratori di riferimento siamo laboratori di riferimento del FOB è un test dal punto di vista concettuale di una semplicità unica assicuramente non invasivo che consente di identificare quei sanguinamenti che possono essere patognomonici di una lesione importante e quindi di arrivare ad una diagnosi precoce se non precocissima come diceva Annalisa Pocanzi il target di riferimento alla popolazione dello screening del colon retto è una certa fascia di età ma noi abbiamo anche la possibilità come laboratorio di in tutte quelle situazioni dubbie di ricorrere a questo tipo di esame per dirimere questioni che possono essere importanti vorrei utilizzare questi pochi minuti per dare diciamo un servizio in che senso? nel senso noi come struttura siamo disponibili come dire ad accettare direttamente i campioni che vengono o anche a consegnarli a consegnare la provetta affinché questo test possa essere fatto nei tempi dovuti naturalmente per fare questo non è possibile che diciamo chi ha bisogno di questo tipo di accesso lo possa fare a tutte le ore dovrà venire negli orari di apertura dello sportello quindi dalle 11.30 alle 13.30 prevalentemente il campione una volta accettato il target che ci siamo dati è di processarlo entro 48 massimo 72 ore quindi voi lo portate lo stocchiamo noi nei frigoriferi di riferimento oppure potete portarlo voi però potete tenerlo voi 24 ore in frigo ma non di più perché noi abbiamo appunto per dare la massima qualità possibile ci siamo dati questo excursus temporale massimo quindi questo a garanzia del paziente è anche importantissimo poiché nella nella raccolta del campione viene allegato un opuscolo informativo è anche importantissimo che chi raccoglie il campione quindi il paziente si attenga a quello che l'opuscolo informativo dice raccogliendolo per come viene descritto perché la fase preclinica per quanto riguarda un esame di questo tipo è una delle fasi più importanti e il medico o l'operatore non la controlla direttamente perché è il paziente che porta il campione quindi attenersi alla dinamica prevista dall'opuscolo informativo è di fondamentale importanza per evitare che si possano avere quelli che in gergo vengono definiti dei fasi negativi cioè dei soggetti che hanno il sanguinamento ma che non avendo raccolto il campione nella maniera esatta risultano completamente negativi questo mi sembra un messaggio importante da dare ribadendo che la struttura di Soveria Mannelli che è stato è stata a lungo un fiore all'occhiello e secondo me per tanti versi lo accora della sanità provinciale è una struttura pubblica questo tipo di progettualità è una progettualità mi riferisco alla prevenzione che ha un suo divenire cioè investe dei soldi che sono anche dei soldi che come dire sono degli investimenti che possono essere importanti per avere un ritorno a distanza di molto tempo perché se tu previeni e non ti ammali di cancro hai speso molti soldi in questo momento però c'hai dei soggetti più sani che non dovranno ricorrere a delle cure ben più importanti e ben più gravosi dal punto di vista del servizio sanitario nazionale ma anche dal punto di vista di tutto quello che è il circuito che si innesta nell'assistenza di un paziente che poi va incontro ad una patologia più seria più grave e anche potenzialmente va incontro a processi a bisogno anche di assistenza domiciliare e quant'altro per cui è evidente che questa è una progettualità che può essere gestita solo da un servizio sanitario pubblico che ha nel pubblico il suo sistema di riferimento e che vede voglio dire il suo futuro in un sistema a garanzia di tutti per cui dopo avervi dato queste notizie vi invito a diffidare da tutti coloro che vi dicono che il futuro della sanità è una progressiva privatizzazione noi siamo da sempre noi come Italia nei primi quattro servizi sanitari mondiali abbiamo un target elevatissimo e dal punto di vista numerico spendiamo molto di meno rispetto a quanto spendono società o sanità che risultano più complesse ma che in realtà scivolano agli ultimi posti della classifica dell'OMS grazie bene per fornire anche un altro elemento positivo dobbiamo dire che quando si effettuano gli esami di screening e si rilevano dei dubbi delle perplessità in merito all'esistenza o no di una lesione che deve essere trattata noi seguiamo i pazienti fino alla fine cioè fino all'esclusione del dubbio o fino all'accertamento invece della presenza di un tumore e in quel caso possiamo contare anche nelle nostre utilizzando le sole nostre risorse aziendali sulle preziose mani chirurgiche del dottore Manfredo Tedesco che per chi non lo sapesse ieri ha vinto il concorso di primario della chirurgia direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia del presidio ospedaliero di La Mezzaterna a cui è associata anche il servizio di chirurgia del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli quindi volevo ricordarlo e idealmente festeggiarlo anche insieme a voi un momento importante che sembra scontato perché è sempre stato per tutta la nostra provincia un punto di riferimento ma che ancora era un facente funzione in realtà ora è stato finalmente insegnito del titolo che meritava e si è confrontato con colleghi anche di un certo spessore che provenivano da tutte le parti d'Italia bene passiamo ora a parlare meglio di che cos'è la prevenzione che cos'è il dipartimento di prevenzione e di che cosa si occupa il dottore Tomasello che conoscete avete conosciuto come direttore del presidio ospedaliero ora è un dirigente medico proprio del dipartimento di prevenzione lo invito quindi a prendere la parola buonasera a tutti è obbligo ringraziare da parte mia il sindaco perché devo dire la verità quando l'ho chiamato è stato immediatamente disponibile e ha accettato di buono volentieri questo incontro anche perché è diretto alla popolazione ed è giusto che sia così un ringraziamento anche l'autoressa Spinelli perché devo dire la verità si dedica con grande amore a questa attività e un ringraziamento a tutti gli ospiti che sono presenti al tavolo dei relepori lasciatemi ringraziare poi lo devo fare perché se lo merito il dottore Tomaino che mi ha sostituito nella direzione medica dell'ospedale di Lanese Terme oltre a essere un collega validissimo è un amico per cui sono contento che mi abbia sostituito qua a Soveria Mannelli è un ringraziamento particolare a voi tutti che siete presenti qua e soprattutto i giovani io vedo dei ragazzi che sono presenti in fondo il vostro ruolo è importante è importante per un motivo semplice cioè la mentalità della persona anziana di un paese che si trova in montagna alcune volte quando arriva la lettera per fare un controllo per esempio una mammografia non la vedono di buon occhio pensano se io sto bene perché mi devo fare questo esame quindi non è capito come una questione che prevenire determinate malattie alcune volte salva la vita quindi dovete essere pure voi giovani a far capire che quando arrivano queste lettere a casa non è una perdita di tempo ma è una cosa importantissima allora diceva bene il dottore Potente sì è anche un discorso economico l'azienda preferisce investire nel prevenire piuttosto che poi curare dopo ma attenzione il messaggio che deve passare non è quello economico il messaggio è che se noi preveniamo e riusciamo con lo screening a individuare determinate patologie noi salviamo la vita cioè il cancro viene in alcuni casi sconfitto che è importante allora io non mi voglio dilungare vi spiego un attimino cosa fa il dipartimento di prevenzione allora il dipartimento di prevenzione diciamo che è una struttura che raccoglie all'interno una serie di unità operative che si occupano di prevenzione e per spiegarvelo qual è che cosa fa questo dipartimento di prevenzione io vi faccio vedere alcune slide però vado velocemente perché se no vi annoio allora tutela la salute della collettività e come tutela riducendo o cercando di annullare i fattori di rischio che sono nell'ambiente di vita e negli ambienti di lavoro e come fa questa cosa qua come riesce a tutelare cercando di vigilare e di vigilare praticamente sulle attività commerciali perché sono importanti le attività commerciali perché anche l'igiene gli alimenti che noi consumiamo potrebbero essere un fattore che inducono un domani a uno sviluppo di una patologia neoplastica vigila ancora sulle comunità sulle attività commerciali e sulle attività sportive non a caso noi abbiamo per esempio all'interno del dipartimento di prevenzione la medicina dello sport andiamo ancora avanti velocemente come cerca di prevenire queste malattie tumorali cerca di prevenirle con lo screening e con iniziative educative ecco quello che noi stiamo facendo questa sera è un'iniziativa educativa cerchiamo di dare dei messaggi in modo che la collettività capisca qual è l'importanza dello screening e poi di conseguenza e quindi a che cosa lo diamo noi questi messaggi lo diamo alla collettività lo diamo alle scuole di conseguenza poi ci porta a fare degli esami in modo da portarci a una diagnosi precoce e quali sono questi esami poi ci sarà il dottore Galea che illustrerà meglio il dottore potente fa una parte cioè diciamo la mammografia la conoscopia la ricerca del sangue occulto nelle feci sono tutti esami che come ha detto prima l'ottoressa Spinelli vengono erogate dal sistema sanitario nazionale in modo gratuito altra cosa di cui si occupa il dipartimento di prevenzione sono le vaccinazioni anche queste sono estremamente importanti per la malattia tumorale e quindi soprattutto per le giovani donne il tumore del collo dell'utero probabilmente indotto da un virus se noi andiamo a vaccinarci che è disponibile questo virus questo vaccino contro questo virus probabilmente questo tipo di tumore un giorno sarà sconfitto in quale altro campo opera ancora il dipartimento di prevenzione vado veloce tutto ciò che può avvenire sulle strade gli incidenti domestici che si possono avvenire nelle abitazioni inoltre si preoccupa ancora di consigliare stili di vita che non sono nocivi e quindi non fumare non esagerare con l'abuso di alcol altra cosa di cui si occupa come vi dicevo prima è la medicina del lavoro per cui c'è l'ispezione sui cantieri vado veloce le visite sugli operai detiene il registro poi eventuali incidenti sul lavoro va ancora avanti diciamo di che cosa si occupa ancora igiene degli alimenti ancora avanti e cerco di concludere tutto ciò che riguarda l'igiene degli alimenti le produzioni di carni e cose varie andiamo ancora avanti ecco qua siamo alla sanità animale come vi dicevo prima anche questo è un argomento del dipartimento di prevenzione dove c'è come avvengono non mi dilungo in queste cose gli allevamenti da dove prevengono gli animali come vengono diciamo nutriti qual è il registro diciamo poi i prodotti che vengono fatti da questi animali da che cosa provengono quindi noi riusciamo a controllare tutte queste cose andando ancora avanti e mi accingo a concludere io vi faccio un esempio che forse vi colpirà allora voi pensate l'adenocarcinoma del colon non nasce come tumore ma nasce come polipo dell'intestino ok questo polipo dell'intestino ha un lasso di tempo forse dieci anni forse quattordici dipende da quello che hanno scritto in letteratura dall'esperienza che ognuno ha comunque è una finestra piuttosto ampia se noi riuscissimo a far capire alle persone che quello è il momento quella finestra è essenziale per fare le attività di screening io vi posso garantire che riusciremo a raggiungere un risultato eccezionale almeno per il tumore del colon non dico che sarà sconfitto completamente però risultati veramente eccellenti e quindi il messaggio che vi voglio lasciare io qual è più facciamo prevenzione e sicuramente avremo un futuro senza cancro quindi queste cose ditela e ho concluso grazie grazie dottore Tomasello hai fatto bene a presentare tutte le attività del dipartimento di prevenzione perché se chiedessi a qualcuno di voi che cos'è l'ospedale di che cosa si occupa tutti mi sapreste rispondere pensate che accanto all'ospedale nel sistema sanitario aziendale esiste il distretto e anche qui mi sapreste rispondere perché avete il distretto che ora è stato accorpato al distretto dell'ametino ma avete il consultorio avete dei servizi territoriali poliambulatori il polo di decollatura per esempio che fa parte del distretto ma rispetto al dipartimento di prevenzione che è una macroarea al pari del presidio ospedaliero e al pari del distretto del sistema sanitario aziendale difficilmente uno saprebbe rispondere quindi è importantissimo riuscire ad avere illuminato i presenti anche su quelle che sono le numerose attività della prevenzione bene abbiamo detto che la prevenzione è finalizzata a contrastare i fattori di rischio che badate bene che si parli di malattie tumorali che sono la seconda causa di morte o di malattie cardiovascolari che sono la prima causa di morte oggi nei paesi occidentali ed anche in Calabria i fattori di rischio sono sempre gli stessi e principalmente sono fattori di natura comportamentale cerchiamo di capire allora come dobbiamo comportarci ne parliamo con il dottore Giuseppe Furgiuele grazie vi ringrazio soprattutto perché siete venuti qui stasera e ringrazio soprattutto i ragazzi perché quando si tratta di tematiche di salute i ragazzi sembrano lontani soprattutto una serata come questa dove si parla di tumori però veramente possono diventare il volano per le buone pratiche all'interno delle famiglie il dottore Tomasello che ha parlato prima di me col quale lavoro tutti i giorni nel dipartimento di prevenzione diciamo ha fatto un pochino uno schema su tutte le attività del dipartimento però nel concreto che cos'è la prevenzione la prevenzione mira a ridurre la mortalità e la morbidità e gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio in altre parole la prevenzione significa venire prima di una determinata patologia io quando devo spiegare un pochino che cos'è la prevenzione dello specifico porto sempre questa slide che i miei colleghi conoscono benissimo perché mi prendono pure in giro sempre per questa vasca da bagno però è esplicativa perché immaginate una vasca da bagno con un rubinetto l'incidenza cioè l'acqua che entra sarebbe il numero di nuovi casi di una determinata patologia mentre la prevalenza cioè l'acqua che si accumula sarebbero i casi che presenti di quella determinata patologia si può uscire dalla vasca in due modi come vedete lì o attraverso la guarigione o attraverso la morte noi invece abbiamo una terza via non entrare per niente all'interno della vasca questa è la prevenzione quindi ecco perché utilizzo spesso questa slide per spiegarla prima il dottore Potente ha toccato il tasto dei soldi che si risparmiano con la prevenzione è importante anche questo perché guardate lì ogni miliardo dedicato alla prevenzione ne fa risparmiare tre in minor cure e riabilitazione che potrebbero essere poi utilizzati per altro tipo di attività sanitarie infatti un sistema salute basato sulla prevenzione può guidare il vero processo di cambiamento del sistema sanitario nazionale attraverso la dimostrazione del valore economico delle buone pratiche di cui parlavamo prima a seconda degli obiettivi e delle modalità abbiamo tre tipi di prevenzione prevenzione primaria secondaria o terziaria la prevenzione primaria cioè rimuovere i fattori causali di una determinata patologia quindi arriva prima la prevenzione secondaria invece la degna sui precoce quindi gli screening oncologici e la prevenzione terziaria i controlli successivi alle guarigioni perché pensate la storia di una determinata patologia è un pochino come vedete lì una fase libera quindi quando non è presente la patologia e noi agiamo con la prevenzione primaria una fase di incubazione che può durare da poche ore a diversi mesi o anni come diceva prima il dottore Tomasello e quindi si agisce con la diagnosi precoce quindi la prevenzione secondaria e poi la malattia conclamata e gli eventuali esiti quindi abbiamo parlato di prevenzione ma poi alla fine a che serve? serve per stare bene stare in salute e quindi nel concreto che cos'è la salute? detta così potrebbe sembrare un'assenza di malattia invece realmente non è così è uno stato di benessere molto più completo perché è uno stato fisico mentale e sociale è una vera e propria risorsa della vita quotidiana quindi non va intesa solamente come un fenomeno statico solamente esclusivo dominio dei servizi sanitari ma un fenomeno sia individuale e sia sociale perché noi stiamo in salute e promuoviamo salute verso la comunità che è quello che stiamo facendo per esempio in questo momento perché la salute dipende principalmente da una serie di comportamenti per esempio comportamenti azioni consistenti nel fare il comportamento alimentare il comportamento alimentare dipende da noi dipende da quello che mangiamo come scegliamo gli alimenti oppure azioni consistenti nell'astenersi del fare ad esempio non fumare nessuno ci obbliga a fumare però noi lo facciamo quindi pensate quanto siamo legati a questo concetto di salute e poi eventi mentali o sensazioni ma la salute è un concetto talmente ampio che ricopre istruzione e formazione lavoro il benessere economico le relazioni sociali l'ambiente la ricerca la qualità dei servizi il comune ad esempio è un promotore di salute attraverso le buone pratiche quindi parlare di salute ormai al giorno d'oggi è sinonimo di benessere per cui la domanda che ci poniamo quando parliamo di questo ma il mondo è in salute non è purtroppo in salute perché c'è un'altissima prevalenza di malattie cronico-degenerative quindi malattie cardiovascolari tumori diabete eccetera e il 70-80% delle risorse sanitarie a livello mondiale sono spese proprio per curare questo tipo di patologie e nel 2020 quindi non stiamo parlando l'anno prossimo praticamente tali patologie rappresenteranno l'80% di tutte le patologie del mondo pensate che il 60% di tutti i decessi è dovuto a questo tipo di patologie ora che abbiamo visto il quadro epidemiologico mondiale piano piano ci avviciniamo a noi con quelli italiani purtroppo la situazione è la stessa le malattie cardiovascolari la fanno da padrone seguiti dai tumori le malattie respiratorie croniche e la domanda dei servizi sanitari soprattutto per i soggetti anziani che sono in aumento è diventata sempre più alta e anche qui è cresciuto l'ammontare delle risorse economiche quindi sia il mondo sia lo stato italiano purtroppo deve affrontare adesso ma soprattutto nei prossimi anni questa sfida per combattere le malattie cronico degenerative e nel nostro piccolo dobbiamo fare anche come nella nostra regione Calabria siamo una regione non molto grande e non molto popolata però siamo caratterizzati da tre punti principali forti flussi migratori in uscita e quindi scarsi flussi migratori in entrata indici di natalità molto bassi soprattutto negli ultimi anni e il punto che voglio sottolineare sono gli indici di vecchiaia in costante aumento con tutte le implicazioni sociali e economiche e soprattutto sanitarie l'indice di vecchiaia sarebbe il numero di anziani rispetto al numero di giovani presenti in un determinato luogo pensate che nel 2017 l'indice di vecchiaia per la Calabria ci dice che ci sono 155 anziani ogni 100 giovani ed è in costante aumento nei prossimi dieci anni ci sarà una diminuzione dei giovani soprattutto dei giovanissimi e un aumento degli anziani dal 19 al 24% con un aumento soprattutto di quell'indice di vecchiaia che vi parlavo che da 155 passerà a 180 quindi aumenterà sempre di più il numero di anziani all'interno della nostra popolazione e questo che cosa comporta un aumento di determinate patologie soprattutto quelle cronico-degenerative perché sono patologie molto spesso legate all'invecchiamento e quindi anche il sistema sanitario dovrà affrontare questo tipo di problema noi nella giornata di oggi a parte le malattie cronico-degenerative in genere parliamo dello specifico di tumori nella nostra regione si stivano prevalenze per tumori maligni inferiore al resto del paese ma generalmente in quasi tutto il sud dell'Italia però nonostante questa incidenza la prevalenza nonostante la prevalenza inferiore al resto del paese gli ultimi dati destano preoccupazione perché gli indici di incidenza sono in costante aumento quindi quando sentiamo parlare di tumore e magari io vengo e vi dico stanno aumentando i casi di tumore ancora di più c'è paura ad affrontare questo tipo di patologie ma ci sta è normale però non deve essere così perché dobbiamo conoscere tutto quello che dobbiamo affrontare tra virgolette quando infatti ogni volta che si parla di neoplasia di tumore di cancro tutti questi termini tendono a portarci proprio ad andare a fare un passo indietro ma che cos'è nello specifico è una massa anomala di tessuto la cui proliferazione cellulare non è soggetta ai normali meccanismi di crescita in senso pratico che cosa significa che l'organismo umano come tutti sappiamo è costituito da cellule che si moltiplicano continuamente per tutta una serie di funzioni si dividono per sostituire le cellule vecchie molte danneggiate e per consentire agli organismi viventi di crescere durante questa replicazione però sono soggetta a una serie di insulti e in alcuni casi questi attacchi controllano la replicazione e alcune cellule si dividono quando non dovrebbero generando un numero enorme di altre cellule questo non è altro che l'innesco del processo tumorale quindi le cellule cancerose sono caratterizzate dalla perdita di controllo della crescita e quindi c'è una proliferazione eccessiva quindi in altre parole un tumore è una proliferazione incontrollata di cellule impazzite detto questo la domanda che ci poniamo è perché queste cellule impazziscono perché è su quello che poi noi dobbiamo agire ci sono cause interne dovute a predisposizione genetica ereditarietà e cause esterne fumo alcol alimentazione sbagliata sedentarietà e fattori ambientali che costituiscono circa il 50% quindi attraverso gli stili di vita possiamo veramente prevenire la maggior parte delle patologie tumorali e quindi torniamo al concetto che abbiamo detto prima che cosa possiamo fare prevenzione c'è il fondo mondiale per la ricerca sul cancro che ogni anno pubblica un decalogo con 10 raccomandazioni e voglio partire proprio da questo per parlare di stili di vita il decalogo del fondo per il cancro dice la prima raccomandazione mantenere il proprio peso sempre nei limiti della normalità svolgere attività fisica seguire una dieta ricca di alimenti di origine vegetale limitare il consumo di cibi pronte e trasformati ricchi di grassi e zuccheri limitare il consumo di carni rosse ed evitare le carni trasformate evitare il consumo di bevande zuccherate limitare il consumo di alcolici il consumo di sale non fare uso di tabacco e punto 10 allattare i bambini al seno per almeno 6 mesi a grandi linee dette così noi diciamo rispettiamo quasi tutti questi punti ora mi voglio soffermare soprattutto sui primi due se voi guardate le principali cause di cancro sono il tabacco la cattiva alimentazione e la sedentarietà quindi vuol dire che non non li rispettiamo tanto questi questi punti a proposito di tenere sotto controllo il peso colporeo come sappiamo il comportamento alimentare che ho detto prima la dieta è la variabile più potente nell'influenzare nel bene e nel male lo stato di salute è un'evidenza scientifica che conosciamo da tempo ci sono studi che derivano sin dal 1909 che confermano il legame tra stile alimentare e il rischio di sviluppare un tumore poiché le persone con un peso corporeo superiore a quello ideale hanno una frequenza di mortalità da tumore del 33% in più rispetto ai soggetti di peso normale quindi mantenere il peso entro giusti limiti è molto importante per prevenire la maggior parte dei tipi di tumori però i dati in Italia di sovrappese e obesità sono allarmanti poiché l'Italia è al primo posto in Europa per quanto riguarda sovrappeso e obesità anche se la percezione per esempio degli italiani è al contrario quando si pensa a uno stato sovrappeso e obeso si pensa agli Stati Uniti noi sembriamo lontani da tutto questo invece realmente non è così la sorveglianza passi che viene fatta ogni due anni sullo stato di salute degli adulti ci dice che in Calabria il 35,3% degli adulti 18-69 anni risulti in sovrappeso e il 13,4% obeso quindi in Calabria quasi il 50% della popolazione è sovrappeso o obeso quindi rispetto a quello che abbiamo detto prima noi soprattutto come calabresi non ci comportiamo proprio in linea con quel decalogo ma il dato allarmante è il sovrappeso di obesità in età pediatrica perché l'obesità fonda sempre di più le sue radici purtroppo in questa fascia di età dieta sana a Dio sono gli italiani i bambini più grassi d'Europa esiste una sorveglianza che viene fatta ogni due anni chiamata occhio alla salute e ce ne occupiamo proprio noi come dipartimento di prevenzione vengono scelte delle scuole a campione delle terze classi primarie i bambini vengono pesati poi viene compilato un questionario da parte dei genitori e da parte degli insegnanti sugli stili di vita dei bambini e poi ogni anno esce il report il report 2016 ci dice che il 30,6% dei bambini italiani è sovrappeso o obeso ed è un dato allarmante quindi 3 bambini su 10 sono sovrappeso e obeso ma guardate il dato Calabria dove si trova la Calabria in questa gradatoria al secondo posto in Italia col 41,4% praticamente rispetto al dato italiano che è già alto noi ci troviamo 11,4 punti in più siamo dietro solo alla Campania quindi perché è preoccupante che quasi un bambino su due ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per età e se riportiamo questo dato sul numero di bambini presenti in Calabria in quella fascia d'età abbiamo circa 38.300 bambini un dato realmente allarmante vuol dire che non solo non seguiamo noi il decalogo che abbiamo visto prima ma soprattutto non lo seguono i nostri figli perché un bambino obeso a parte noi siamo abituati a vedere un bambino obeso un bambino paffuto sorridente che sta in salute realmente non è così è il contrario perché prima si diceva diventerà un adulto malato no non è vero è già un bambino malato è questo il problema ma perché ci sono questi dati perché siamo arrivati a questo punto errori di associazione alimentare poco consumo di frutta e verdura poca attività fisica troppe ore davanti alla tv o computer e il dato allarmante è l'ultimo cattiva percezione dello stato nutrizionale dei figli non da parte dei genitori da parte delle mamme principalmente quindi se toccherò qualcuno di voi che si sente veramente toccato da questo punto di vista perché purtroppo è così guardate questa slide è veramente un dato allarmante lasciamo stare madri di bambini sovrappeso madri di bambini obesi si parla di obesità gravi il 23,5% delle madri intervistate di bambini obesi ritiene il proprio figlio normopeso e il 65,7% un po' in sovrappeso quindi non c'è realmente la percezione del problema ecco perché abbiamo questo dato in Calabria perché purtroppo da noi il cibo rappresenta uno strumento per veicolare affetto un modo per voler bene porto sempre questa slide andando a casa di nonna tornando da casa di nonna perché è sempre così le nonne vedono sempre i propri nipoti sciupati io ho una bambina piccola mia mamma e mia suocera la vedono costantemente sciupata e mi danno tutte le colpe del mondo però realmente non è così ma non solo le nonne lo fanno pure le mamme quando ci sono mamme in sala quando telefonano magari i figli che sono all'università fuori qual è la la domanda che gli fate gli esami no si è mangiato ecco il dato da dove da dove deriva perché l'ho subita pure io questa cosa la prima domanda se era l'era se avevo mangiato e il fine settimana quando tornavo che ti cucino la domanda è quella e quindi purtroppo noi abbiamo questo stato sociale poi insieme a tutta un'altra serie di fattori siamo arrivati a quel dato che purtroppo è importante però come sappiamo ci sono tutta una serie di tumori che sono prevenibili con una sana alimentazione ma qual è questo modello alimentare sano poi alla fine di tutto perché poi la domanda è questa la dieta mediterranea lo sappiamo benissimo lo sapevano i nostri nonni è una cosa di cui parliamo sempre dieta mediterranea patrimonio dell'umanità è riconosciuta in tutto il mondo come un modello di alimentazione sano fatto di pasta pane e cereali latte e derivati e soprattutto tanta ma tanta frutta e verdura e quindi ideale per il raggiungimento di un buono stato di salute e quindi la dieta mediterranea non è solo uno stile alimentare ma un vero e proprio stile di vita e tutto questo è un paradosso perché nonostante l'aderenza teorica a una dieta di tipo mediterraneo che è sinonimo di salute l'Italia detiene il primato europeo di sovrappeso e obesità infatti molti studi ci dicono che l'abbiamo inventata noi ma ormai la segue solo un italiano su cinque vi ho portato questo studio e ve lo leggo rapidamente praticamente è stata fatta una ricerca su 16.220 bambini in Europa di vari stati europei Svezia, Germania, Spagna, Italia Cipro, Belgio Estonia e Ungheria per vedere questi bambini chi di più si avvicinava allo stile di vita mediterraneo è lo stato in cui si registra il maggior consumo di cibo associabile alla dieta mediterranea è la Svezia che di mediterraneo è abbastanza poco quindi è lontana da noi per farvi capire come ci siamo allontanati da questo stile di vita e il paradosso oltre ad essere italiani e soprattutto calabrese perché la dieta mediterranea è stata diciamo scoperta da Ansel Kiss proprio qui in Calabria queste sono le foto dell'epoca quando questo fisiologo statunitense arrivò dagli Stati Uniti perché negli Stati Uniti stava facendo uno studio sulle patologie cardiovascolari si era reso conto che c'era una minore incidenza di questo tipo di patologie sugli immigrati che arrivavano dall'Italia e soprattutto dal sud dell'Italia e quindi arrivò prima a Napoli e poi qui in Calabria nel 57 per vedere qual era questa motivazione come mai c'era questa bassa incidenza di questo tipo di patologie e qual era era che Nicotera per esempio in quel periodo usciva dal dopoguerra quindi si faceva una alimentazione fatta di tanta frutta verdura cereali pesce carne pochissima perché purtroppo si mangiava quello che c'era a quel tempo e quindi si faceva una vera e propria dieta mediterranea uno stile di vita mediterraneo quindi la cucina di tutti i giorni è un importante alleato per la salute quindi che cosa dobbiamo fare innanzitutto recuperare e mantenere i valori e le tradizioni della nostra cultura alimentare tornando a quello stile alimentare sano quindi variando spesso le nostre scelte a tavola e facendo un buon consumo di fibre poiché favoriscono il miglioramento della funzionalità intestinale e riducono soprattutto il rischio del cancro del colon retto poiché c'è un minor tempo di contatto delle sostanze cancerogene con la parete intestinale molta frutta e verdura l'ho detto due tre volte e lo ripeto ancora perché è molto importante ora velocemente un altro punto ma veramente veloce il secondo punto del decalogo ci diceva che è importante fare attività fisica in Calabria coloro che dichiaro di non praticare su un tipo di attività fisica è pari al 54,2% quindi in Calabria più della metà della popolazione è sedentaria quindi è in contrasto con quello che abbiamo detto prima quindi che cosa fare dedicare almeno un'ora al giorno l'attività fisica al movimento perché è importante perché la perdita di peso riduce la mortalità per il 40% dei tumori è importante per la protezione per il tumore marmario sia prima che dopo la menopausia e l'esercizio fisico riduce il rischio di tumore prostatico questi sono tutta una serie di modi in cui l'attività fisica esercita un'azione anticancro però quello che dobbiamo sapere che è importante muoversi quindi sana alimentazione e attività fisica possono essere visti come veri e propri farmaci e come i farmaci bisogna trovare il giusto equilibrio tra beneficio e rischio e qualcuno qualche anno fa diceva se fossimo in grado di fornire a ciascuno la giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico né in eccesso né in difetto avremmo trovato la strada per la salute quindi qualcuno qualche anno fa ce lo diceva noi poi piano piano nel corso degli anni abbiamo dimenticato questi principi quindi noi abbiamo il problema le incidenze e le malattie cronico-degenerative principalmente i tumori e abbiamo la soluzione quindi sani stili di vita e quello che dobbiamo fare è scegliere un sano stile di vita quindi le parole importanti sono prevenzione venire prima ma anche promozione muovere verso verso un ambiente sano verso fattori di protezione quindi dobbiamo promuovere la strada giusta e vi lascio con questa frase lasciare accadere un male che si può impedire vuol dire praticamente commetterlo grazie dottore Furgioele attenzione quindi quando andiamo a fare la spesa al tipo di alimenti che scegliamo al tipo di preparazione di questi alimenti che decidiamo di adottare nella elaborazione delle nostre pietanze e impariamo anche a trovare tutte le attività che non necessariamente devono essere prettamente sportive ma tutte le attività semplici che possono permetterci di metterci in movimento perché in questo modo sicuramente staremo meglio tuteleremo la nostra salute nella sua accezione più ampia di benessere non solo fisico ma anche psichico sappiamo infatti come l'attività fisica faccia bene non solo al corpo ma anche alla mente parliamo ora entriamo nel merito degli screening oncologici con la dottoressa Emilia Caligiuri grazie allora prima di iniziare la mia presentazione ci terrei a fare una piccola premessa quando andiamo in giro ad incontrare la popolazione poi spesso ci chiama la signora di turno e ci dice ho partecipato al progetto dello screening ci tengo a precisare che lo screening non è un progetto e non è neanche una campagna pubblicitaria non si esaurisce nella giornata di oggi non si esaurisce qui a Soveria Mannelli che cos'è lo screening? lo screening è un diritto di tutti i cittadini in alcune fasce di età stabilite è un livello essenziale di assistenza quindi tutto ciò che il sistema sanitario deve garantire ai suoi cittadini in parole semplici ci sono degli esami gratuiti rivolti alla popolazione e vediamo quali sono questi esami sono il PAP test per la prevenzione del tumore del collo dell'utero la mammografia per la prevenzione del tumore al seno e la ricerca del sangue occulto nelle feci per la prevenzione del tumore del colo retto ma perché il sistema sanitario ci garantisce gratuitamente questi tre esami? perché se voi guardate in questa tabella c'è la stima dei tumori più frequenti nella popolazione maschile e femminile sul totale guardate la popolazione totale abbiamo al primo posto il tumore al seno e al secondo posto il tumore al colo retto sono degli esami per cui quindi questi esami sono indispensabili per una diagnosi precoce e questi sono invece poi i numeri e le percentuali guardate che per il colo retto abbiamo 240.000 casi per quanto riguarda gli uomini e nelle donne 226.000 casi ma come siamo messi noi qui al sud lo diceva prima il dottore Forgiuele noi al sud ci ammaliamo di meno rispetto al nord e le donne si ammalano meno degli uomini quali sono questi fattori di protezione che noi abbiamo? sicuramente fumiamo di meno rispetto alle altre regioni guardate la cartina colorimetrica vedete che la Calabria è evidenziata in verde beviamo meno alcolici consumiamo meno alcolici rispetto a regioni come il Friuli Venezia Giulia o il Veneto sicuramente abbiamo la maglietta nera per quanto riguarda l'eccesso di peso perché abbiamo detto prima sono una popolazione a cui piace mangiare ma anche poi si muove poco però consumiamo meno carni rosse rispetto ad altre regioni anche se è vero siamo gennaio periodo di insaccati qui a Soveria immagino siete in piena attività io sono una montanara come voi quindi so che in questo periodo c'è un grande fermento ma gli insaccati che produciamo sono sicuramente artigianali quindi meno ricchi di conservanti come appunto quelli industriali nonostante ciò nonostante questi fattori di protezione però noi abbiamo un livello di sopravvivenza che è più basso rispetto a quelli del nord quindi sopravviviamo di meno come mai? perché aderiamo poco ai programmi di screening quindi arriviamo a fare diagnosi di determinate malattie più tardi rispetto ai nostri connazionali agli abitanti del nord Italia ora scendendo nella pratica che cosa fa lo screening? immaginate di avere un setaccio quando siete a casa state preparando un dolce passate la farina al setaccio cosa succede? la farina buona passa attraverso il setaccio le impurità restano sul setaccio stesso allo stesso modo noi lo screening passiamo al setaccio la popolazione quindi cerchiamo tra la popolazione quelle persone che hanno bisogno di interventi terapeutici precoci per migliorare il proprio stato di salute quindi se da un lato c'è il cittadino che sceglie che stile di vita portare avanti dall'altro c'è la nostra azienda che invita determinate fasce d'età a fare questi esami gratuiti garantendo così una maggiore equità perché i cittadini sono invitati tutti indipendentemente dal paese o indipendentemente dallo stato sociale tutti hanno lo stesso diritto di fare questi esami e vediamo appunto scendiamo un po' più nello specifico abbiamo lo screening del tumore del collo dell'utero che abbiamo detto è rivolto alle donne dai 25 ai 64 anni quindi dalle ragazze alle donne più adulte e si fa ogni tre anni con il pap test teoricamente dovreste ricevere una lettera a casa purtroppo questo non succede quest'anno abbiamo avuto un blocco del software è stato un anno un po' particolare però alcune volte succede che fanno gli inviti ma poi non arriva alla destinazione non vengono consegnati questi inviti per motivi diversi per cui quando succede che non arrivano gli inviti avete tutto il diritto di chiamarci e dire vorremmo fare il pap test e che noi vi prenotiamo perché fare il pap test perché il tumore del collo dell'utero come diceva prima il dottore Tomasello è causato da un'infezione persistente da papillomavirus che è un virus molto frequente che noi donne otto donne su dieci prendiamo nel corso della nostra vita si trasmette per via sessuale la maggior parte delle infezioni regredisce spontaneamente quando questo non succede si creano delle infezioni persistenti che possono portare a delle lesioni che poi possono evolvere in tumore sicuramente i fattori di rischio sono un inizio precoce dell'attività sessuale e partner multipli ma il fattore di rischio più importante sta appunto nell'avere mai effettuato un pap test noi abbiamo avuto il caso di una ragazza giovane straniera residente in Italia però che non aveva mai effettuato un pap test ed è stato il nostro caso di cancro dello scorso anno i consultori sono distribuiti sul territorio e operano per noi attraverso appunto l'esecuzione di questi pap test gratuiti passiamo ora allo screen del tumore al seno di cui dirò due parole perché poi ci saranno sia la dottoressa Molinaro che il dottore Galea è rivolto alle donne dai 50 ai 69 anni sempre gratuitamente con la mammografia questo cosa significa che le donne di 40 anni 45 anni non è che non debbano fare la mammografia ma la fanno con impegnativa allo stesso modo le donne dai 70 anni in su le donne invece in questa fascia di età 50 ai 69 anni lo possono fare gratuitamente attraverso lo screening l'esame sappiamo tutti che la mammografia che si esegue ogni due anni salvo indicazioni diverse del radiologo gli ambulatori mammografici attualmente in funzione sono tre abbiamo il presidio ospedaliero di La Mezzia Terme Catanzaro Lido ma la cosa fantastica per voi è che abbiamo all'interno dell'ospedale il nuovo mammografo digitale di cui appunto è stato dotato e quindi avete la comodità voi così come Paesi del Compressorio di fare la mammografia direttamente a casa vostra tra virgolette e poi abbiamo lo screening del tumore del colonretto che come diceva il dottore Potente è rivolto a uomini e donne dai 50 ai 69 anni e si esegue ogni due anni con la ricerca del sangue occulto nelle feci perché lo diceva prima anche il dottore Tomasello il tumore origina da un polipo che può degenerare lentamente in tumore nell'arco di 10-15 anni quindi noi abbiamo tutto il tempo per trovare il polipo e intervenire e interrompere così l'evolversi della malattia e questa è la provetta che si può ritirare questa sera distribuiamo anche noi qui in fondo alla sala si ritira e si fa a casa comodamente non c'è bisogno di fare una dieta diamo anche le istruzioni e quindi diciamo che il test è abbastanza semplice da seguire ma cosa succede se si viene richiamati perché positivi al test non bisogna allarmarsi che positivi al test non è una persona al 100% ammalata significa che guardate in questa slide abbiamo la popolazione in alto rappresentata da tutti i pesciolini passano il primo test di screening quindi in questo caso la mammografia o la ricerca del secolo cultore e le feci o il pap test risultano positivi significa che quelle persone hanno bisogno di fare degli esami di approfondimento che eventualmente escluderanno o confermeranno la presenza di un tumore ogni persona che ha un test di screening positivo viene seguita in tutto il percorso e vengono programmati assieme alla persona gli esami di approfondimento da fare è lo screening che se ne prende carico quindi voi non dovete andare dal medico a vedere l'esame a fare l'impegnativa chiamare prenotare ma è lo centro screening che vi segue in tutto questo proprio per questo lo screening è un percorso e poi è completamente gratuito tutti gli esami di cui abbiamo parlato sono gratuiti così come tutti gli esami di approfondimento ci servono questi esami ci servono perché poi di tumore si può guarire perché guardate quelli sono i numeri delle persone guarite nel 2010 condiandosi di tumore al seno e diandosi di tumore del colorretto e per noi ogni volta che salviamo una vita diamo un senso a quello che ne facciamo perché tra tante difficoltà quando poi abbiamo delle persone che si salvano quelle sono le gratificazioni più grandi questo è un video che non sono riuscita a caricare è una persona che ha aderito allo screening e che poi ha rilasciato un'intervista proprio promuovendo la possibilità della diagnosi precoce naturalmente il centro screening per fare tutto questo non lavora da solo ma lavora con tutte le unità operative e poi collabora con le scuole con i comuni con i medici di medicina generale con le diverse unità operative e i laboratori proprio per sensibilizzare la popolazione e aumentare l'adesione noi in questo caso stasera siamo venuti a parlare con voi proprio perché vogliamo sensibilizzarvi ad aderire allo screening la nostra sede gestionale si trova alla mezza terme ci potete contattare sia attraverso i nostri numeri di telefono che attraverso le mail abbiamo un sito aziendale abbiamo attivato anche una pagina facebook per raggiungere chi utilizza sempre più spesso i social network ma piuttosto che restare chiusi all'interno dei nostri ambulatori ad aspettare che le persone venissero spesso e volentieri siamo andati in giro sul territorio raggiungendo anche paesi più disagiati e coinvolgendo le diverse associazioni con una sorta di tour della prevenzione e queste sono alcune delle locandine che abbiamo fatto alcuni degli eventi che abbiamo fatto cercando di costruire una rete con tutte le varie associazioni e questa sera abbiamo inserito anche nella nostra rete il comune di Soveria Mannelli io vi lascio chiedendo di ricordarvi di voi ricordarvi dei vostri cari nella esecuzione di questi esami cercando di trovare il tempo nel corso della propria giornata tra tutti gli impegni che ci sono di dedicare appunto qualche minuto alla prevenzione quindi lo screening non solo non progetto ma lo screening tutti i giorni tutto l'anno e Ippocrate come diceva prima il dottore Forgioele ve lo ripropongo pure io diceva non basta prevedere la malattia per guarirla ma occorre insegnare la salute per conservarla e poi come dice invece spesso la nostra dottoressa Spinelli il nostro successo è poi il successo delle donne e degli uomini calabresi vi ringrazio dottoressa Caligiuri quindi il nostro successo perché noi dobbiamo confessare che i programmi di screening in Calabria anche nella nostra realtà non raggiungono quei livelli che sono raggiunti in altre realtà d'Italia e questo dovrebbe rappresentare per noi un motivo di profonda insoddisfazione in realtà realmente noi pensiamo di poter svoltare con il contributo però di tutti quanti perché in assenza di un sistema gestionale che ci permetta di poter produrre a regime gli inviti perché abbiamo difficoltà a fare inviti anche se per voi per quello che riguarda lo screening mammografico siamo riusciti a realizzarli abbiamo bisogno del contributo di tutti insieme ce la possiamo fare lo screening mette in gioco tantissime professionalità non è il centro screening non è il successo del centro screening è il successo di tutti i tecnici di radiologia che quasi ogni giorno eseguono le mammografie dei radiologi che seguono l'esame del personale di segreteria che programma gli appuntamenti delle ostetriche che stanno nei consultori e del personale di supporto che cercano di promuovere insieme ai ginecologi l'esecuzione dei pap test del personale dell'anatomia patologica e dei laboratori che effettua tutti gli esami di approfondimento degli endoscopisti dei chirurghi degli oncologi che effettuano le visite e che permettono poi di seguire appunto il paziente durante il percorso entriamo ora quindi più nell'aspetto clinico e invito a relazionare la dottoressa Peppina Molinaro che è il nostro punto di riferimento come oncologia nel sostenere affrontare e programmare delle attività per quello che riguarda i pazienti che risultano positivi ma non agli esami di screening perché essere positivo a un esame di screening non significa essere malato se doveste mai essere richiamati perché lo screening funziona in questo modo la risposta se è negativa tarda ad arrivare perché magari la spediamo e non viene recapitata però se date indicazioni potete anche andare voi stessi a ritirarla i soggetti positivi vengono contattati telefonicamente per cui importantissimo è lasciare correttamente i vostri dati per poter essere correttamente contattati e se siete contattati telefonicamente non mettetevi a piangere ci è capitato di persone che pensano di avere direttamente un cancro in realtà bisogna semplicemente fare degli esami di approfondimento degli esami ulteriori che non necessariamente magari sarebbe terribile se confermassero sempre il dubbio nell'interesse del paziente nel momento in cui viene sollevato il minimo dubbio noi andiamo ad approfondire quindi dottoressa Peppina Molinaro la donna e il tumore del seno un cordiale buonasera a tutti voi che siete intervenuti nonostante il freddo a questa giornata ovviamente ringrazio tutti voi per essere presente e voglio come i miei colleghi che mi hanno preceduto voglio come dire ribadire l'importanza effettivamente di questa giornata e di queste ore che dediciamo a un argomento così importante quale è quello che è la salute di tutte le donne io vi parlerò in breve del problema del tumore al seno e ho portato queste diapositive cercando di essere piuttosto breve e far capire quali sono le cose salienti che dobbiate sapere ho scritto così cosa sapere come provenirlo che fare che cos'è il tumore al seno il tumore al seno è una formazione di tessuto costituito da cellule che crescono in maniera incontrollata come ha detto il dottor Fragioele e in maniera anomala all'interno della ghiandola mammaria che non hanno un freno ve l'ha spiegato il collega ecco notate il tessuto normale le cellule normali del nostro corpo e invece queste cellule anomale che si ingrandiscono che non hanno più la struttura che dovrebbero avere e che si riproducono in maniera incontrollata e danno origine a questa neoformazione come può essere il tumore al seno il tumore al seno può essere un tumore non invasivo quindi un tumore in cui le cellule crescono all'interno dell'organo all'interno dei dotti della mammella dei lobuli e che rimangono in quel sito lì non va oltre quindi parliamo in questo caso di un tumore in situ che non va oltre quindi un tumore non invasivo purtroppo può essere anche invasivo lo sapete tutti e questo quando succede quando le cellule si diffondono oltre il punto di origine possono dalla ghiandola mammaria invadere i tessuti circostanti e andare addirittura agli altri organi e quindi parliamo di una malattia metastatica cosa che noi oncologi non vorremmo mai vedere perché vorremmo vedere sempre il paziente in una fase iniziale una fase in cui noi possiamo far tanto per loro e avere poi la guarigione il tipo più frequente del tumore alla mammella è il tumore duttale invasivo ho detto anche infiltrante questo è il listotipo più comune anche se ne abbiamo altri il tumore duttale rappresenta il 70 l'80% in tutti i casi tumore alla mammella ecco vedete questa immagine fa vedere a destra vediamo una mammografia evidenziato dalle frecce la formazione irregolare che si sta formando così nella mammella che è già indice di un tumore con immagini irregolari e su questo poi vi illustrerà ancora meglio il nostro premale dottore Galea la nostra mammella come è composta è composta da vari tipi di tessuto abbiamo il tessuto adiposo il tessuto collettivo di sostegno e poi la parte proprio ghiandolare della mammella che è costituita da lobuli e da dotti la nostra mammella si modifica ovviamente durante il corso della vita durante l'allattamento ovviamente partiamo dal menarca dall'allattamento si modifica anche nel corso della gravidanza perché assume una forma diversa per cui diventa più adiposa e con una decrescenza proprio del tessuto ghiandolare il problema del tumore a seno sta diventando importante dovete sapere che fino a poco tempo fa non si parlava di questo ma ora c'è una maggiore sensibilizzazione verso questo problema tant'è che per la prima volta vedete nel dicembre del 2017 sono stati presentati da parte dell'AIRTUM l'AIRTUM sarebbe l'associazione italiana registro tumori per la prima volta hanno portato questi dati in senato per sottolineare qual è l'importanza e anche il dato statistico di questa malattia noi possiamo dire questo che circa il 7% di nuovi casi sono già metastatici alla diagnosi per fortuna non sono molti però ogni anno abbiamo circa 3.000 casi nuovi oltre 8 casi al giorno quindi pensate l'importanza è la rilevanza di questo problema in alcuni casi il tumore metastatico appunto è la prima diagnosi per un totale di 1.500 casi ogni anno la sopravvivenza però è diversa cioè in effetti rispetto al passato c'è un miglioramento da questo punto di vista per cui negli anni 70 la sopravvivenza era sui 15 mesi più o meno dalla diagnosi 58 mesi dall'inizio degli anni 2000 e la sopravvivenza a 5 anni della diagnosi è notevolmente differente notate un 87% diciamo però ovviamente questa sopravvivenza scende man mano che noi ci troviamo di fronte a un tumore più avanzato quindi in un tumore metastatico la sopravvivenza a 5 anni è del 30% a 10 anni invece è della media dell'80% questi numeri i nostri numeri sono elevati però c'è un dato positivo sono nettamente inferiori rispetto alla media europea quindi questo è un vantaggio per la nostra Italia qual è l'età maggiore di rischio di ammalarsi nell'80% dei casi i pazienti in età superiore ai 50 anni recentemente però si è modificata una riduzione dell'età dell'insorgenza praticamente noi abbiamo persone molto giovani che arrivano alla nostra osservazione una paziente su 10 a meno di 35 anni cosa che non vedevamo nel passato e le cause quasi sono le cause sono fattori ambientali l'abbiamo detto prima sono fattori dietetici quindi un'errata alimentazione e fattori anche genetici quindi non bisogna mai dimenticare che nella diciamo in una familiare quando c'è una familiarità bisogna stare molto attenti perché può darsi che la patologia si possa presentare nelle generazioni successive e quindi una maggiore attenzione quanto è diffuso è la neoplasia più diffusa nel sesso femminile e rappresenta il 25% di tutti i tumori femminili è la prima causa di morte tra 35 e 44 anni e questi dati sono recentissimi questi dati sono portati all'ultimo congresso nostro nazionale degli oncologi medici l'IOM che si è svolto in ottobre e praticamente abbiamo 53 mila nuovi casi nel 2018 e c'è una differenza tra nord centro sud e isole allora l'incidenza dipende quindi dello stile di vita dipende dall'alimentazione e dall'inquinamento ambientale dell'industrializzazione dall'ambiente in cui viviamo l'incidenza cambia nelle varie regioni l'abbiamo fatto vedere anche prima il collega allora l'incidenza è di circa 35 mila casi il 6% delle donne ha una distribuzione diversa la malattia nelle diverse macro regioni nel nord abbiamo un 3% al centro il 5% nel sud il 9% ma anche la mortalità cresce? no per fortuna no perché 8 donne su 10 riescono a guarire in Italia vivono più di 522 mila donne che hanno avuto questa diagnosi che stanno bene e perché c'è un calo nella mortalità il calo è dovuto ovviamente a un'anticipazione diagnostica su questo possiamo fare molto con le campagne di screening con la prevenzione e anche con i progressi terapeutici perché noi sappiamo che oggi lo curiamo meglio rispetto al passato e quindi questo fa sì che cresce anche la sopravvivenza cosa abbiamo di nuovo il fondo nazionale per la ricerca sul cancro ha concluso il lavoro di revisione anche nel caso della mammella sui 10 punti come per le altre patologie su cui puntare l'attenzione proprio per prevenire il cancro e quali sono l'abbiamo detto prima una riduzione del peso corporeo una maggiore attività fisica anche valgono le stesse cose che per le altre forme tumorali una diminuzione del consumo di alcolici e non fumare anche nel caso del tumore alla mammella è molto importante evitare il fumo perché è una concausa di malattia è la giusta alimentazione come abbiamo detto prima su questo non mi dilungo perché è stato molto estraustivo il collega Rugger fare uso di verdure di alimenti che possono fare bene e non appesantire l'organismo anche l'allattamento al seno deve essere incentivato perché è un fattore protettivo per la donna quali sono i fattori di rischio allora possiamo dire che è importante anche l'età della prima gravidanza è importante perché quando si ha nullipari fino a un certo lasso di tempo è logico che c'è un maggior rischio di ammalarsi quindi un menarca tardivo è una menopausa precoce o precedenti patologie benigne alla mammella anche quelle devono essere attenzionate perché possono predisporre a questo al tumore la familiarità lo stile di vita l'abbiamo detto l'esposizione a sostanze diciamo nocive e le mutazioni genetiche quindi stare attenti a quelle che sono le malattie familiari ed evitare determinate cose che possono incentivare l'insorgenza del cancro lo screening abbiamo detto che cos'è è un programma condotto sulla popolazione sana che è a rischio e ovviamente prevede l'esame mammografico gratuito l'abbiamo detto dai 50 ai 69 anni e riduce del 35% la probabilità di morte e il 25% delle neoplasie vengono diagnosticate con dimensioni inferiore a 2 cm ogni giorno infatti nella nostra attività vediamo delle piccole neoplasie facendo questo programma di screening all'altro giorno con la dottoressa e con il dottore Gale abbiamo individuato un tumore di 8 mm sapete cosa significa questo? significa la guarigione perché individuare una malattia così piccola significa che anche se si attuano tutte quelle metodiche successive però la paziente riesce a stare bene a guarire perché è una malattia che è localizzata come abbiamo detto solo alla mammella per cui la risoluzione è facilissima quindi quali sono le regole che noi dobbiamo seguire? dopo i 25 anni bisogna fare sempre una vista senologica anche se non facciamo la mammografia ma fare una prima vista per vedere se notiamo qualcosa di diverso e stabilire qual è il nostro stato di salute fare l'autopalpazione non lo diciamo sempre dai 25 ai 45 anni bisognerebbe fare almeno ogni 2-3 mesi l'autopalpazione soprattutto quando si fa la doccia quando così facciamo l'autopalpazione cercando di riscontrare qualcosa di anomalo nel nostro seno un nodulo qualcosa che si senta ancora di più perché sotto la doccia siamo insaponati e quindi ovviamente la mano scivola e riusciamo a percepire una variazione su indicazione si fa un'ecografia quando notiamo qualcosa che non va e eventualmente poi si approfondisce anche con la mammografia ma dopo i 50 anni bisogna fare la mammografia in alcuni casi dubbi li guardiamo meglio il problema approfondiamo il discorso e notiamo se c'è qualcosa da fare oltre esame mammografico un'indagine più accurata e noi dobbiamo prestare attenzione in generale a questo a un nodolo duro al seno all'ascella che prima non c'era a la comparsa di un gonfiore sulla ghiandola mammaria a qualcosa di cutaneo un'irritazione sulla pelle a un cambiamento nel nostro fisico a un cambiamento anche nel capezzola a una secrezione a qualcosa che prima non c'era allora il riscontro di queste cose ci deve porre diciamo in condizioni di andare poi dal medico e di seguire i controlli spesso facciamo ecco un agaspirato sotto guida ecografica e se questo non basta andiamo a fare anche un esame bioptico quindi andiamo a prendere un pezzettino di tessuto e analizziamo il tessuto così facendo una volta che noi abbiamo completato questo percorso siamo arrivati ecco anche in una fase iniziale al diagnosi di carcinoma poi si mette in moto il team multidisciplinare di cui parlava la dottoressa Spinelli e allora ognuno di noi operatori dal chirurgo all'oncologo mettiamo in atto quelle che sono le nostre conoscenze e ci adoperiamo che si possa risolvere il problema della signora in esame quindi concludendo che cosa possiamo dire che insistere nell'educazione nell'informazione il passaggio fondamentale per combattere il cancro e la prevenzione è la vera arma vincente quindi affrontate questo problema cercate di essere sempre responsivi a questi nostri progetti a queste nostre attività perché noi lavoriamo per voi per la salute di tutte le donne e con questo vi ringrazio per l'attenzione grazie dottoressa Molinaro dobbiamo partire quindi dalla consapevolezza che dal cancro si può guarire importantissima è la diagnosi precoce che può essere aiutata dall'adesione sistematica ai programmi di screening ricordiamoci però che gli esami non sono sempre infallibili che gli esami hanno comunque dei limiti per cui cerchiamo ve lo ha detto più volte la dottoressa Molinaro di stare attenti ai segnali del nostro corpo e di attenzionare qualunque modifica e cambiamento nel caso in cui percepissimo qualche modifica anche dopo aver effettuato gli esami di screening rivolgiamoci al medico di fiducia per cercare di evidenziare il problema e trovare eventuali esami ulteriori da effettuare quali sono questi esami mammografici dello screening mammografico ne parlerà il dottore Galea che è direttore come dicevo della struttura complessa di radiologia e diagnostica per immagini lavora non solo all'anezia ma anche a Soveria ed è inoltre il referente clinico dello screening mammografico per tutta la provincia quello che è stato detto io posso benissimo passare quasi dai saluti perché diciamo gran parte è stato già fatto però ovviamente tralascerò alcune diapositive che avevo preparato non è diciamo una formalità ma veramente ringrazio la dottoressa Spinella e Spinelli e gli organizzatori perché per l'entusiasmo che ci mettono nel fare ogni volta questi incontri si è già parlato di come il cancro della mammella sia molto importante e ovviamente ringrazio almeno due mi pare di siano le due tecniche di questo presidio la signora Tallarico e la signora Chiodo che sono qui presenti e che quotidianamente seguono questi esami allora si è già detto come in effetti l'incidenza varia nei vari paesi come più si va verso popolazioni tra virgolette meno sviluppate quindi meno industrializzate e più il tumore si riduce come incidenza però già di questo ne ha parlato la dottoressa Molinaro mi meraviglia che non ci siano molti medici di base perché molte cose già le potrebbero individuare loro se cominciassero a visitare come bisognerebbe fare senza aspettare che già la donna da sola evidenzi qualcosa dei fattori di rischio già se ne è parlato abbondantemente come in effetti l'alimentazione e lo stile di vita incida e questo ovviamente lo stiamo notando anche noi perché a Lamezia leggiamo le mammografie di Soveria di Lamezia stessa e di Catanzaro Lido nel senso che uno di noi va a Catanzaro Lido a leggere anche quelle di quel posto e abbiamo visto come in effetti varia da sede a sede anche il comportamento del seno delle signore cioè a Soveria prevale la componente adiposa e quindi è più facile se c'è qualche problema che venga fuori mentre è più complicato esaminare le mammelle degli altri siti anche se adesso abbiamo delle macchine che ci facilitano molto probabilmente anche diciamo lo stile di vita il modo di muoversi in campagna il fatto di mangiare è più sano qualcosa diciamo in qualche modo influisce e cerchiamo di capirlo pure noi esistono ovviamente la dottoressa Molinaro ne accennava prima persone che sono proprio predisposte geneticamente ad avere questi problemi allora quelli queste persone hanno bisogno diciamo di un'attenzione particolare però il 95% delle donne non è detto che abbiano una mutazione genetica quindi tante volte ci sono persone che dicono mia madre ha avuto un tumore questo non significa essere predisposte ad averlo personalmente la prevenzione ovviamente già la dottoressa Molinaro l'ha detto la mammografia è l'esame principe per quanto riguarda lo screening mammografico e soprattutto visto che riguarda le donne dai 50 ai 69 anni si fa in due proiezioni quindi in obliqua non so se da qui posso no vabbè si fa soprattutto in due proiezioni in cranio caudale quindi schiacciando dall'alto verso il basso la mammella e in obliqua quindi schiacciandola in senso appunto dallo sterno verso l'ascella allora questa diapositiva serve per capire come mentre nelle ragazze prevale il parenchima che sarebbe diciamolo il grafico più basso man mano che si va avanti negli anni si riduce il parenchima e aumenta il grasso e questo è importante per capire come poi c'è la fibrosi che varia da persona a persona e questo è importante per capire come in effetti nelle donne giovani è più importante fare l'ecografia la mammografia serve di meno perché c'è meno grasso mentre invece la mammografia è importantissima dopo i 50 anni quando prevale la componente grassa questa è una mammella grassa dove anche un piccolo nodulino in basso è più facile da poter identificare ma c'è la luce ah perfetto è uno schermo questo pessimo quindi non so se riuscite a vedere qualcosa perché c'è un rosso di fondo che sicuramente annulla le immagini o le riduce dunque poi ecco se c'è qualche nodulo alla mammografia è più facile poi con l'ecografia mirata a vedere che per esempio questa è una formazione cistica quando una donna viene chiamata per fare un altro esame come giustamente ha detto già la dottoressa Spinelli o la dottoressa Caligiuri non ricordo chi non significa che abbiamo trovato un tumore significa c'è una zona densa che è meno grassa e che va esaminata per capire se in quella zona c'è qualcosa di particolare oppure magari non c'è niente quindi non significa che per forza c'è qualche problema quest'altro per esempio che è sempre un nodulo alla mammografia è un nodulo solido un fibroadenoma quindi serve anche per tranquillizzare perché non sempre una donna ha fatto già degli esami e quindi ha già una sua storia mammografica per cui un nodulo già sapeva di averlo a volte è un fatto nuovo ed è giusto tipizzarlo per capire che tipo di nodulo di che si tratta ovviamente una mammella così che ha delle spicolature non so se riuscite a vedere qualcosa è chiaramente una forma tumorale però per fortuna come si diceva in passato come dicevano i relatori precedenti è vero che si riescono a trovare queste forme tumorali sempre di più perché sono aumentate negli anni e anche in Italia aumentano 5.000 ogni anno in più però è anche vero che a volte si trovano casi molto più piccoli di un nodulo come questo e allora concludendo qual è il messaggio che deve restare nelle donne sotto i 40 anni ha già detto alla dottoressa e si fa l'esame clinico da parte del curante spero ed eventualmente oppure se con l'autopalpazione una ragazza una signora giovane ha sentito qualcosa oppure si passa all'ecografia ed eventualmente all'agospirato perché perché se è un nodulo solido che quindi non è liquido e ha delle caratteristiche non precisamente tipiche per un nodulo benigno è bene fare l'agospirato dove già vedere che ci sono cellule benigne ci tranquillizza se appunto è benigno si fa un controllo a 6-12 mesi se c'è un dubbio si fa la mammografia anche sotto i 40 anni perché la mammografia ci aiuta e a questo proposito bisogna ricordare come grazie anche al centro screening abbiamo un mammografo su ogni presidio anche a Catanzaro Lidio e a Soverato oltre che a Soveria Mannelli e la Mezzia Terme che diciamo ha la possibilità di fare anche la tomosintesi che significa? Significa che la mammella viene fatta a fette cioè quello che noi vediamo non è solo la sommatoria di tanti strati ma vediamo proprio strato per strato si può comunque non vedere qualcosa di molto piccolo però è meno probabile che succeda nelle donne dai 40 ai 49 anni va fatta la mammografia perché comincia a prevalere la parte grassa come dicevamo e la visita e l'ecografia se ci sono fattori di rischi è bene farla comunque dopo i 50 anni è importante lo screening mammografico perché dire 18-24 mesi? perché dipende dalla quantità di grasso che c'è se una mammella è molto grassa anche ogni due anni va benissimo se è meno grassa è bene che magari negli anni di mezzo la signora si faccia un'ecografia o si faccia una mammografia col medico curante cioè tramite la ricetta perché lo screening richiama dopo due anni non prima se c'è la familiarità sospetta o un seno denso appunto va richiamata prima come vi dicevo in questo caso anche annualmente se le donne stanno facendo una terapia sostitutiva ma sono molte di meno ormai perché si è visto che può creare dei problemi si fa una mammografia annuale nelle donne invece a rischio quelle che dicevamo essere geneticamente predisposte o diciamo come purtroppo è successo con l'effetto Jolie una si toglie proprio il seno perché sicuramente è predisposta ad averlo ma sono casi paradossali oppure si fa una mammografia annuale ed eventualmente una risonanza la risonanza è un esame che usiamo a fare pure noi giù alla mezza e serve nei casi dubbi oppure nelle pazienti appunto che sono sicuramente predisposte perché è molto sensibile e riesce appunto a valutare se quella zona che è sospetta prende contrasto quindi arriva lì diciamo c'è una vascularizzazione che rende quella zona attiva non una zona diciamo cicatriziale o comunque diciamo spenta e a questo proposito sempre grazie anche alla partecipazione economica dell'ufficio screening a febbraio partiremo con le mammografie col mezzo di contrasto e saremo gli unici in Calabria a farla perché si è visto come nel tempo si può sostituire la risonanza con la mammografia col mezzo di contrasto quindi si collabora insieme a loro e si cerca sempre di fare diciamo nell'interesse della della popolazione il nostro dovere grazie grazie al dottore Galea quindi se avete ricevuto la lettera d'invito e appartenete alla fascia di età 50-69 anni o se non avete ricevuto la lettera d'invito riflettete sull'importanza di effettuare questo esame ma se lo volete fare con la ricetta io vi do un motivo per non farlo perché perché le persone che leggeranno la vostra mammografia se andate al presidio ospedaliero di la mezza terme sono le stesse che la leggono con lo screening ma c'è di più nel caso dello screening la vostra mammografia può avvalersi della tomosintesi quindi di questo sistema che permette come dire di fare affette il seno la mammella e quindi di poterla visionare in una maniera più approfondita ma i radiologi lettori sono due quindi nel caso in cui ci sia una difformità nella lettura perché vi ripeto è un esame comunque soggettivo dipendere dall'abilità dell'operatore dall'esperienza dall'acume in quel momento nel caso in cui ci dovessero essere due letture differenti noi prendiamo la lettura che è stata più negativa quindi se uno dei due lettori dichiara assolutamente negativa mentre l'altro esprime un dubbio noi consideriamo l'esame dubbio e andiamo ad approfondire sempre gratuitamente tutti gli esami sono gratuiti abbiamo degli ottimi professionisti rispetto al privato la capacità di lettura la bravura nella lettura espressa dal numero di esami che vengono letti ebbene noi possiamo vantarci di avere dei lettori di mammografie che hanno all'attivo un numero di esami che può decisamente competere con numerosi punti di vantaggio rispetto agli altri lettori possiamo farvi arrivare fino alla fine del percorso grazie alla presenza del dottore tedesco che è anche un bravissimo chirurgo nel campo senologico e se volete comunque rimanere nella nostra provincia ci avvaliamo dei chirurghi dell'ospedale Pugliese e della del dottore Leone e della dottoressa Ren e dell'azienda ospedaliera Mater Domini sempre come screening quindi noi possiamo indirizzarvi sulla base della vostra libertà di scelta della vostra opzione sulla di queste strutture se poi volete andare fuori siete liberissimi di farlo ma quantomeno andrete con una diagnosi precoce quindi vi ringrazio dell'attenzione ringrazio di nuovo tutti i presenti vi ringrazio per essere stati qui ma anche per il contributo che ci darete per sostenere questa causa comune grazie di nuovo grazie a tutti 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 grazie a tutti